Finalmente dopo una settimana o due di quella vita sfuggente, a furia di osservare e seguire le guardie e di approfittare di tutte le occasioni che gli si presentavano, riuscì a scoprire dove era imprigionato ciascun nano. Individuò tutte e dodici le celle in diversi punti del palazzo e dopo un po' imparò alla perfezione come raggiungerle. Quale non fu la sua sorpresa un giorno nell'udire per caso la conversazione di alcune guardie e apprendere così che c'era anche un altro nano prigioniero, tenuto in un posto particolarmente scuro e profondo. Naturalmente pensò subito che si trattasse di Thorin e dopo un po' ebbe modo di appurare che aveva indovinato. Infine, dopo molte difficoltà, riuscì a trovare il posto quando non c'era nessuno in giro e a parlare con il capo dei nani. Thorin era troppo infelice per essere ancora furioso per le proprie disgrazie e stava addirittura cominciando a pensare di rivelare al re tutto a riguardo del tesoro della sua spedizione, il che dimostra quanto si fosse scoraggiato. Quando udì la vocina di Bilbo attraverso il buco della serratura. Quasi non credeva alle proprie orecchie ma non ci mise molto a capire di non essersi sbagliato e avvicinatosi alla porta ebbe una lunga conversazione sottovoce con lo hobbit dall'altra parte. Fu così che Bilbo poteva portare in gran segreto un messaggio di Thorin a ciascuno dei nani imprigionati, dicendo che anche Thorin, il loro capo, era imprigionato là vicino e che nessuno doveva rivelare al re la loro missione. Non ancora, non prima che Thorin desse l'autorizzazione. Thorin infatti aveva ripreso animo sentendo come lo hobbit avesse salvato i suoi compagni dai ragni. Ed era più deciso che mai a non pagare il proprio riscatto promettendo al re una parte del tesoro, almeno finché non fosse svanita ogni speranza di fuggire in qualche altro modo. Finché, insomma, lo straordinario signor Baggins, l'invisibile, di cui cominciava ad avere un'opinione davvero altissima, non si dimostrasse incapace di scogitare qualcosa di astuto. Quando ebbero udito il messaggio, gli altri nani si dissero d'accordissimo con lui. Erano tutti convinti che le rispettive quote del tesoro, di cui si sentivano già in possesso nonostante la situazione difficile e il drago tuttora imbattuto, avrebbe seriamente sofferto se gli elfi silvani ne avessero reclamato una parte. E avevano tutti piena fiducia in Bilbo. Proprio come aveva predetto Gandalf, se ben vi ricordate. Chissà forse se era proprio uno dei motivi per cui era andato via lasciando che se la cavassero da soli. Bilbo comunque non condivideva il loro ottimismo. Non gli andava che tutti contassero su di lui e avrebbe voluto avere lo stregone a portata di mano. Ma era un desiderio irrealizzabile. Probabilmente fra Gandalf e loro c'era tutta la tenebrosa estensione di Bosco Tetro, perciò se ne stava seduto a spremersi le meningi fino a farsi quasi scoppiare la testa. Ma di idee brillanti non gliene veniva nessuna. L'anello che lo rendeva invisibile era un'ottima cosa, ma non serviva molto se si era in quattordici. Ovviamente però, come avrete indovinato, alla fine riuscì a salvare i suoi amici. Ed ecco come andò. Un giorno, ficcanasando e girellando quella, Bilbo scoprì una cosa molto interessante. Il portale non era l'unico ingresso della caverna. Sotto una parte dei sotterranei del palazzo, infatti, scorreva un ruscello che sfociava nel fiume Selva, un po' più a est, oltre il ripido pendio in cui si apriva l'ingresso principale della caverna. Sul fianco della collina, lì dove il corso d'acqua sotterraneo veniva alla luce, c'era una chiusa. Il tetto di roccia declinava fino a sfiorare la superficie del ruscello e da lì veniva calata una saracinesca in grado di sbarrare completamente il corso d'acqua, per impedire a chiunque di entrare o uscire per quella via. Ma la saracinesca era spesso aperta, perché dalla chiusa passava un bel po' di traffico in entrambe le direzioni. Se qualcuno fosse entrato da quella parte si sarebbe trovato in una buia galleria naturale che scendeva fino al cuore della collina, ma nel punto in cui la galleria passava sotto le caverne. La volta era stata forata, per fare posto a una grossa botola di quercia. Questa si apriva verso l'alto, nelle cantine del re, dove erano ammassati barili, barili e barili a non finire. Gli elfi, silvani, infatti, e specialmente il loro re, amavano moltissimo il vino, anche se da quelle parti non cresceva la vite. Il vino e altre merci venivano portati da molto lontano, dai loro consanguinei del sud o dalle vigne degli uomini in terre remote. Nascosto dietro uno dei barili più grandi, Bilbo scoprì la botola e la sua funzione, e spiandola attorno, origliando le chiacchiere dei servi del re, apprese che il vino e le altre merci arrivavano via fiume, o via terra fino al lago lungo. Lì sembrava che vi fosse ancora una città di uomini, costruita su palafitte all'interno del lago per meglio difendersi dai nemici di ogni tipo, ma specialmente dal drago della montagna. Dalla città del lago i barili venivano fatti risalire per il fiume Selva. Spesso venivano semplicemente legati insieme per formare degli zatteroni e sospinti contro corrente con pertiche o remi. Altre volte venivano caricati su delle chiatte. Quando i barili erano vuoti gli elfi li gettavano attraverso la botola, aprivano la chiusa e i barili piombavano nel ruscello, dove galleggiavano o dondolavano via e la corrente li trascinava fino a un punto lontano del fiume, dove le sponde formavano una specie di strozzatura, vicino all'estremo confine orientale di Bosco Tetro. Lì venivano raccolti, legati insieme e spinti di nuovo verso la città del lago, che sorgeva vicino al punto dove il fiume Selva sfociava nel lago lungo. Bilbo rimase seduto a riflettere su quella chiusa e a domandarsi se non si potesse usarla per far scappare i suoi amici, e dopo un po' sentì germogliare un piano disperato. I prigionieri avevano ricevuto il pasto serale e le guardie stavano allontanandosi lungo i cunicoli, portando con sé le torce e lasciando tutto al buio. Poi Bilbo udì il maggiordomo del re a augurare la buonanotte al capo delle guardie. «Ma prima vieni con me», disse, «così ti faccio assaggiare il vino novello che è appena arrivato. Stanotte dovrò sgobbare per sbarazzare tutte le cantine. Di tutti i barili vuoti. Quindi adesso andiamo a farci una bella bevuta, dai, per alleviare la fatica». «Benissimo!» rise il capo delle guardie. «Lo assaggerò con te e vedrò se va bene per la tavola del re. Stasera c'è una festa e non sarebbe saggio mandar su della rubetta da poco».